Queste medaglie sono tutti gli sforzi che ho fatto e insieme a me e tutti gli altri miei compagni che mi hanno dato la possibilità di vincere questa medaglia insieme a loro. Questa è la nemicità eccome, ho conosciuto delle bravissime persone, ho conosciuto tante storie e questa è la mia storia. Arrivare qui a dei giochi mondiali Special Olympics è solamente il passo finale di un percorso lunghissimo che ha consentito agli atleti e ai partner di vivere esperienze sportive ma anche e soprattutto umane di altissimo profilo. Il nostro percorso, nello specifico per i mondiali di Abu Dhabi, è partito più di un anno e mezzo fa nei giochi nazionali di Montecatiri dove ci siamo incontrati per la prima volta. Di lì che abbiamo cominciato a costruire le basi per quello che è sicuramente un successo indipendentemente dalle due medaglie che abbiamo il piacere di portare al conto. Italia! 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 No, veramente torno con un'altra faccia dopo questa medaglia veramente. Non riesco a smettere di guardarla, sì.